Con la prima neve non sarà possibile salire all'Alpe di Campogrosso da Requaroterme, come ogni anno infatti Viabilità ha emesso un'ordinanza per chiudere al traffico per motivi di sicurezza un tratto di 3 km lungo la strada provinciale 99 Campogrosso, lo annuncia il comune requarese. Il provvedimento dispone la sospensione della circolazione stradale in entrambi i sensi di marcia per tutti i veicoli, la chiusura scatterà a partire dal primo giorno in cui si dovessero verificare condizioni meteo avverse, neve o ghiaccio, tali da rendere insicuro il transito. Il tratto interessato della chiusura è quello tra il rifugio La Guardia e il rifugio Giuriolo, meglio conosciuto come rifugio Campogrosso. L'ordinanza rimarrà in vigore fino al 30 aprile 2023. Attualmente la zona non è coperta da neve, ma già nei prossimi giorni è previsto un peggioramento. Anche sul territorio vicentino infatti si vedrà qualche precipitazione o un sensibile calo termico di almeno 5-6 gradi. La neve scenderà attorno ai 1.400 metri. Da martedì 22 novembre la perturbazione nevosa più decisa scenderà anche a quote basse.